Mentre è imperversa ancora lo scontro sull'epilogo anticipato dell'avventura dell'amministrazione Brasiello al Comune di Isernia, gli schieramenti politici continuano a organizzarsi per le imminenti elezioni provinciali. In questi giorni le trattative in corso sono proseguite, ma senza colpi di scena. I precari equilibri di centrodestra e centrosinistra dipendono dalla scelta che maturerà sul candidato presidente. Antonio Ditri, giovane sindaco di Longano, nelle ultime settimane veniva dato in pole position per il centrodestra, nonostante la guerrita concorrenza che aspira a rappresentare lo schieramento è anche il sindaco di Belmonte del Sannio Enrico Borrelli. Il primo però sembra ancora favorito in quanto il ragionamento su cui si stanno confrontando i vertici dei partiti è questo. L'Alto Molise è già rappresentato in consiglio e con l'assenza di un esponente che porti in alto le istanze di Isernia città, il primo cittadino di Longano sarebbe la persona ideale a farsi carico dell'intero Interland Pentro. Nei prossimi giorni si deciderà il nome di colui che correrà per lo scrano più alto dell'ente di secondo livello, ruolo che un anno fa aspettò al vice sindaco di Venafro, ora non più ricandidabile, Alfredo Ricci. Quello che è importante è il profilo, il profilo di un sindaco che deve essere evidentemente una persona chiaramente di centrodestra, anche per dare un segnale di chiarezza, anche ai cittadini per quanto questo è un tipo di elezione dove i cittadini non voteranno, deve essere un candidato in grado anche di far valere le ragioni del nostro territorio. L'anno scorso la campagna elettorale si giocò molto sulla rivendicazione del ruolo della provincia di Isernia rispetto a una regione che sempre più la marginalizzava, oggi a distanza di un anno votammo ad ottobre, la situazione è peggiorata. Infine, Avvocato Ricci, lei è uno stretto collaboratore dell'Avvocato Umberto Colalillo che in passato è stato candidato sindaco di Isernia, in questi giorni si è rifatto avanti come rumors una sua eventuale candidatura a primo cittadino del capologo Pentro, lei cosa ne sa in merito? Ma io non ne so niente, lo so come lo sa lei, l'ho sentito ai bar con qualche amico, evidentemente certamente la città avrebbe di che avvantaggiarsene, però sono valutazioni molto complesse e poi ci sono anche delle sensibilità personali. Non credo che al di là dei rumors, però ad oggi ci sia qualcosa di concreto. È tutta una simpatia che poi corrisponde al carattere del professore. Problemi maggiori nel centro-sinistra. Il PD ha già dichiarato che vuole un proprio esponente per sostituire Brasiello e contando sul voto ponderato, che assegna un valore maggiore ai consiglieri comunali dei centri più grandi, pensa di avere già la vittoria in tasca. Frosolone, Venafro e Agnone faranno la differenza in queste elezioni e i due comuni altomolisani sono amministrati dal centro-sinistra. Il prescelto dei democratici è Lorenzo Coia, sindaco di Filignano, ma la partita è tutt'altro che chiusa in quanto Giuseppe Di Pilla e Lidia Iocca non si sono ancora tirati indietro. Ma se la sindaca di Civitanova del Sannio sembra sfavorita per il suo recente ingresso in provincia, il primo cittadino di Sant'Agapito non molla forte del sostegno di Vincenzo Niro e di quella parte del Consiglio non propriamente di sinistra. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.